Non sempre poi ci sono stati dei colleghi comprensivi, io mi ricordo una volta un collega che di fronte a me che è tossivo, se ne è uscito con una frase del tipo, quando si sta male bisognerebbe stare a casa, il problema è che io sarei dovuta stare a casa per tutta la mia vita lavorativa, quindi quella fu una frase che ancora oggi, di molti anni fa, ma che ancora oggi ricordo, mi ha ferito non poco. Magari l'atteggiamento degli altri può essere diverso quando c'è la mancanza di fiato e una persona si trova a respirare quell'aiuto, finora non ne ho avuto bisogno e quindi anche visto dall'esterno l'effetto è diverso. Io vado al ristorante, vado con il mio carrello, non guardo chi mi guarda e il perché sono così, penso a me stessa. Vicenza è una città dove un po' pettegola, vogliono sapere ma poi in realtà tutti siamo soli ma non si fa niente per ritrovarsi, ecco, poi conducendo questa vita perché altrimenti la vita me la sarei riempita di cose e anche di persone. No, non ho mai trovato nessuno, non ho mai trovato persone che mi allontanassero sentito questa cosa, no. Grazie. Grazie. Grazie.